Il ricambio generazionale, io sono entrata a fare questo lavoro da tutt'altra esperienza a 30 anni, devo dire che è stata tutta dura all'inizio, crearsi infatti i clienti, quindi sicuramente fare il ricambio generazionale da padre a figlio è molto più semplice, iniziare dall'inizio è dura, come del resto immagino tutte le libere professioni e molto probabilmente quello che può aiutare è sicuramente un approccio di tirocinio ma vero, nel senso permettere veramente ai ragazzi di fare un tirocinio serio che faccia veramente conoscere questo lavoro, quindi affiantare il consulente con il cliente e poi nell'ufficio la preparazione della trattativa, la trattativa vera e propria, quindi comunque il ricambio generazionale può essere secondo me fatto solo e esclusivamente con un approccio di tirocinio di almeno 24 mesi, altrimenti non si hanno proprio le basi per potersi lanciare a fare questo lavoro.